Secondo la stima della prefettura quanti sono i migranti che arriveranno sul territorio del capoluogo fiorentino? Di sicuro 1.136 di cui 100 sono già arrivati il 31 due giorni fa, ne arriveranno 1.036 nei prossimi giorni, credo in questa settimana, ma sono state già le quote assegnate alle varie prefetture della regione. Quindi insomma i vari comuni del capoluogo sanno già quanti migranti accoleranno? Sì, lo sanno le prefetture, lo sanno i comuni e non arriveranno tutti insieme 1.036 ma scaglionati. Qual è il clima che si respira proprio su questa questione, che è piuttosto delicato? Il clima è sempre quello di un mese fa, questi continuano ad arrivare, continueranno ad arrivare, c'è bisogno dello sforzo dei comuni per l'accoglienza. Se non c'è questo sforzo vedo che hanno iniziato a collaborare, c'è qualche comune che collabora di più, però abbiamo bisogno dell'impegno di tutti i comuni per evitare soluzioni a cui ho fatto il cenno spesso. Andiamo a Monte, anche il sindaco di Firenze, Dario Nardella, ha fatto una sorta di appello all'Unione Europea che bisogna che si impegni. Sì, però fino a quando l'Unione Europea non decide o meglio mette in attuazione le decisioni, noi dobbiamo essere pronti ad accogliere i profighi perché gli sbarchi sicuramente non si fermeranno.